Siamo ancora al crossodromo di Santa Rita e abbiamo qui finalmente senza casco Marco Magnetti. Bella la seconda gara anche se per salvare un altro pilota ha dovuto rifare tutta la gara da zero. Vero Marco, ci racconti quello che è successo? Stranamente sono riuscito ad aggeccare una partenza, ero secondo alla prima curva e poi sono stato toccato e portato largo, sono ripartito ultimo. Mi rimonta dopo un giro, ero già quarto e per un cambio di traiettoria improvviso mi si è praticamente messo davanti un altro pilota e per non centrarlo ho dovuto frenare di brutto e imballare il motore. Io ho perso quasi mezzo giro per ripartire perché ho dovuto risentare centralina e quant'altro e poi ho fatto il recupero, ho terzo. Perciò si può dire che hai fatto tre gare in una? Bravo! No, bella, bella gara davvero. Mi sono divertito tantissimo. Si, si vedeva che ti divertivi. Avevamo paura di vedere qualche cosa di esagerato perché veramente i salti erano infiniti tuoi ultimamente. Marco, terzo assoluto? Prego, secondo assoluto. Buono, ci vediamo poi sul podio con la coppa in mano. Perfetto, un ringraziamento, ciao.